Buon martedì a tutti, eccoci nuovamente insieme per gli ultimissimi aggiornamenti. Parleremo di tutti i pagamenti che sono in corso e che andranno avanti fino al 2 di settembre. Ma come sempre chiedo la stessa cosa, se ancora non siete iscritti alla pagina o al canale, fatelo, è utile, gratis, ma serve soprattutto a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto. E' a me per supportare e sostenere la pagina ed il canale. Partiamo subito dai pagamenti che sono ripresi questa mattina, martedì 27 agosto. Disoccupazione della Naspi e della Discol e qui troviamo ancora nuove date già disponibili sul fascicolo previdenziale del cittadino di INPS. Ancora pagamenti ripresi questa mattina, assegno unico universale mensilità di agosto e anche per l'assegno unico ci sono nuove date già disponibili sul fascicolo di INPS. Andiamo avanti, rimborsi del 730, sono ripartiti anche questi, ma voglio ricordare a tutte le persone che sono i rimborsi per coloro che hanno come sostituto d'imposta l'Istituto INPS ed hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio. Oltretutto vi ricordo che i pagamenti andranno avanti anche per l'intero mese di settembre. Per coloro invece che hanno come sostituto d'imposta agenzia delle entrate i pagamenti sono previsti per il mese di dicembre. Andiamo avanti perché ci sono anche nuovi pagamenti per quanto riguarda il trattamento integrativo sulla Naspi e teniamo anche date per domani, 28 di agosto. Questa mattina invece sono iniziati i pagamenti per la maternità, comunale, poi sempre questa mattina nuovi pagamenti per il bonus asili nido. Restiamo in tema dei pagamenti perché sono attualmente in corso le ricariche per l'assegno di inclusione adi, quelle di fine mese. Ci sono ancora tantissime domande senza lavorazioni, ricordo che sono comunque ritardi da parte di INPS perché ci sono stati anche determinati errori in quanto hanno sospeso tantissime domande senza alcuna motivazione. Arriviamo al bonus SFL da 350 euro, supporto della formazione di lavoro, pagamenti a partire da domani 28 agosto. Arriviamo alle pensioni, pagamenti a partire dal 2 settembre. Si attende comunque sia, nonostante domenica, il primo, un anticipo per correntisti postali. Per coloro invece che le ritirano in contanti allo sportello ci sarà il solito calendario in ordine alfabetico, partendo dalla lettera A alla lettera C. E arriviamo alla fine perché siamo in dirittura d'arrivo per la carta spesa o carta dedicata a te da 500 euro perché anche altri comuni hanno iniziato a pubblicare le liste dei beneficiari aventi diritto. Ricordo le ricariche come previste per leggi sono a partire dal 1 settembre, nonostante sia domenica. Questa era l'ultima notizia, l'ultimo aggiornamento, mi raccomando condividete, fate girare, un bel like, alla prossima notizia.